Un giocatore che gioca per la squadra, un giocatore pronto a sacrificarsi, che si è buttato sui palloni, che cerca di dare più comitate e accendere di meno, è un giocatore disposto a fare qualsiasi cosa per raggiungere poi l'opetito finale. Ho trovato sole, innanzitutto, che non guasta mai, ho trovato un bel gruppo solido, gente che voglia di sudare, pochi fronzoli, gente che voglia di stare in palestra, di stare insieme e appunto, come dicevo, lottare tutti verso poi l'obiettivo finale. L'obiettivo personale è integrarmi al più presto possibile, loro stanno facendo di tutto, anzi mano su di accordo alla grande, per poi far davvero parte della squadra e dare un contributo importante e utile per la squadra. Ragazzi, ciao Stefanino soprattutto, che è un ragazzo che conosco, che arriva al pub a Pesaro, e ciao a tutti, spero di farvi sorridere in senso buono, non farvi dire, ma sorridere alla contentezza, perché poi alla fine ci sarà una vittoria, una domenica.